Musica Encio che stanzi ruo e a pizzo con la usci di Ladins, vedone insieme alla Neves del numero 50. L'erga sulla prima piatta per la Garagetis de Coppa del Monde della Ladinia. Della piatta di attualità da Zon Conte della Radunanza Generale Adelente, che quest'anno rappresenta un momento importante più che senza. Olac Lestat Portadant, la neve edizione dedicata al Bosque. E il Neff Filmat, che si ravi vent'era il Museo Ladin. Perché il che verda fa sta con con la radunanza del Neff Movimento Ritadin dell'Unione Autonomista Ladina. E che la del Grop Damonte della Val d'Essora, Olac Lestat Portadant, in Cina Neva Pubblicazione. Zoninante con un'altra radunanza, che la della Pt chiama da Ite Dand alla Sazonda d'Inverno. La Benedizione del Neff Meso per i studi a Fegda Cianacei. Il Rekognossimento per i Indempenti alla Scuola di Piupicui. L'appuntamento social stato a Ciampedale in Stadi. La Comedia portata un paladino dalla Mizzacoles. La Saccottanta scommenzativa portata a compimento dell'Associazione, che un po' se mette da un tamo muoiede e s'prozzeci per l'anchevene. Il Rekord per la Manconia dell'Alpinista dalla gran capacità desma de caratteri humul e de pece a parole. E che per far memoria dell'evento tragico stato a Cadi e a Scene, che si ha portato a mezzo in toque di Cierda Fascia. Tessutle il concorso del retrato. E gli auguri della redazione. Sulla piazza dell'Ause della Scuola il bel momento indrezzà per i studenti che ha finito la Scuola Auta. E il contributo al Nadel di Scolese della Populera. Da ben 30 anni fende collaborazione la decisione del Geraserle Ergaiso in che vendò. L'architetto Wilfried Moroder resona della legge urbanistica neva che si rinnessa col prundemestel del 2020. Perché il che verda al sport taccò con l'occhei e l'ottava vento a defila per i Falcons. E i risultati di più gioini. Gioi in hand con il schialpinismo e la buona prestazione di atleti della Società des Fasciennes ai campionati taglienti di schialpinismo. E al trofeo Montagnello. Da poi dò l'enche i risultati del pass lung. Chi del ball sui Feres con enche i spettacoli da Nadel sulla giaccia dell'Associazione des Fasciennes. E l'importante podio in Coppa del Mondo che taccò il tempo della scat per il finanziere da puzza. Finion con i risultati dei schi della gara Egedes Fischi Junior. Sulla uscita di insomma ogni vender potete trovare la neve da tutta la ladigna. La prima edizione del Neffan 2020 va in foro ai 3 de Genè. Per info e abbonamenti potete vi augurare alla redazione di Fasciennes sul Stradona St. Jean. Telefon 04-12-76-45-45 Mail Fasciennes-lauch.it L'abbonamento per il 2020 costa 70 euro. L'abbonamento per il 2020 costa 70 euro.